Oggi e domani in Veneto sono possibili ancora rovesce temporali locali con eventuali fenomeni anche intensi nell'area dolomitica, specie nella giornata odierna. In considerazione delle previsioni meteo elaborate da ARPAV, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha dichiarato lo stato di attenzione idrogeologica per il bacino dell'Alto Piave nel Bellunese, con attenzione rinforzata per la frana di Cancia a Borca di Cadore.